Foto. Ormai più passa il tempo, più in qualsiasi contesto li scattiamo con lo smartphone. E questo perché, come dice un vecchio detto, la fotocamera migliore è quella che si ha con sé quando serve. A questo proposito mi sono chiesto, ma qual è il minimo che devo spendere per possedere un camera phone? Quindi uno smartphone leader e performante nel settore fotografico. Io, non so voi, ma il mercato degli smartphone l'ho sempre paragonato molto a quello delle automobili. Ci sono varie fasce di prezzo ben distinte, le più alte sono spesso più per lo status symbol che per altro, ma ho avuto la percezione che più si spende, più le funzioni che si sbloccano, tra virgolette, con questa spesa, sono dei dettagli, a volte molto belli esteticamente, a volte molto utili, ma sempre dettagli rimangono. Prendendo come esempio il Samsung Galaxy S24 Ultra, che tutti sembrano odiare per il suo design, a me ha sinceramente colpito molto in positivo, costa una sfracassata, costa più dell'iPhone, 1500 euro e vi portate a casa questo colosso, sembra il pilastro di 2001 di Sia nello Spazio, e per esempio una funzione esclusiva potrebbe essere il pennino, per così prendere appunti alla vecchia maniera, o comunque utilizzare una penna, una stylus sopra di esso. Oppure spendendo 1300 euro di iPhone 15 Pro Max avete in più... Apple. Avete Apple. Ma sorvolando su questi dettagli nobili, mi piace chiamarli, spesso la Pro Feature che vogliono gli utenti è semplicemente un comparto fotocamere degno di questo nome. E proprio oggi è uscito il Realme 12 Pro Plus 5G. E in occasione di questo lancio, Realme mi ha lanciato una sfida, dal momento che lo ritiene il miglior camera phone, mantenendo un prezzo da medio gamma, pensate che costa quasi un terzo del Samsung Galaxy S24 Ultra, e meno della metà di un iPhone 15 Pro Max. E in questa sfida mi ha invitato quindi a comparare il nuovo Realme 12 Pro Plus 5G con i due colossi della fotografia e della telefonia in generale, l'iPhone 15 Pro Max e l'S24 Ultra. Ebbene, ho deciso di compararli avvisandoli subito che la recensione sarà del tutto imparziale. Ovviamente andremo a vedere quali funzioni nobili, quali dettagli in più ci porta a spendere tre volte il prezzo di questo smartphone, ma vedremo uno se ne vale la pena e due qual è il suo rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda il comparto fotocamera. In tutti e tre i casi abbiamo la lente ultra wide, quindi super grandangolare, e in questo Realme 12 Pro è l'unico che ha un leggero crop in più con una 0.6x a 16mm. Per passare poi alla fotocamera principale, la wide, che è una 24mm in tutti e tre i casi, capace anche di uno zoom in sensor, quindi senza cambiare lente 2x, che è l'equivalente di 48mm. E spostandoci invece nel campo più interessante, ovvero le fotocamere ottiche zoom, Realme e Galaxy S24 Ultra utilizzano le lenti periscopiche. Per dirlo in una parola, è questa lente che come vedete al suo interno ha una configurazione piatta, a quadrato più che a cerchio, ed è sostanzialmente una strategia utilizzata soprattutto dagli smartphone per aumentare la lunghezza focale senza aumentare la lunghezza fisica dell'obiettivo, composte quindi da una disposizione di specchi sia orizzontali che verticali per piegare, tra virgolette, riflettere la luce con un angolo sempre di 90 gradi. La lunghezza che compie il raggio di luce, che in un obiettivo normale sarebbe dritta, in questo caso invece viene splittata sia sull'asse X che sull'asse Y, quindi attraversa più spazio sui due assi, ma in una minore estensione orizzontale. Nello specifico fa sì che questa lente sia una 3x, equivalente a 71 mm, con la possibilità di un zoom in sensor fino a 140 mm, quindi 6x. Se per esempio prendete l'iPhone come paragone, la sua lente zoom è una 5x, nel caso del Pro Max, nel caso del Pro non Max addirittura si limita ad una 3x, mentre il Realme riesce a spingersi addirittura fino al 6x di lunghezza ottica. Ovviamente questo non è l'unico parametro con cui valutare la qualità di una lente, ma abbiamo già un arsenale di lenti più ampio. Superando i 141 mm nel caso del Realme, i 120 mm massimi nel caso dell'iPhone, o i 240 cm massimi nel caso dell'S24 Ultra, entriamo nel mondo degli zoom digitali, quindi un semplice cropping software praticamente, con annessa poi un sistema di ottimizzazione virtuale dell'immagine. In ultimo posto troviamo l'iPhone 15 Pro Max, che si spinge solo a 25x di zoom digitale, al secondo posto l'S24 Ultra, che raggiunge un 100x di zoom digitale, e al primo posto troviamo il Realme, che sceglie di arrivare fino a 120x di zoom. Ovviamente più si porta all'estremo questo zoom digitale, più i dettagli saranno pressoché tutti ricostruiti, ma bando alle ciance mettiamo da parte i discorsi tecnici e vediamo come sono ste foto. Sono voluto partire dalle fotocamere ultra wide. Questa in genere in tutti gli smartphone è una lente di qualità inferiore rispetto alla principale, anche qui non è un'eccezione. Noto che iPhone e S24 Ultra hanno una gestione dei colori automatica leggermente migliore, l'iPhone è comunque considerato il re dell'HDR, e in generale della fedeltà dei colori, ma di contro il Realme come anche il Galaxy hanno la funzione Pro, ovvero il settaggio delle impostazioni manuali delle fotocamere, quindi potrete comunque regolarvi voi la colorazione della foto. Se volete farlo in automatico, l'iPhone è una spanna soprattutto. Da un punto di vista tecnico, le foto però sono tranquillamente equiparabili. Nessuno dei tre spicca e dà un particolare distacco all'altro per qualità. Ovviamente in tutti e tre i casi si tratta di una foto grandangolare, quindi la meno indicata per osservare determinati dettagli specifici nella foto. Sempre a tema City Life, mi sono ispirato alle statue sulla fontana per farvi vedere la modalità ritrattoli, ho utilizzati come soggetti, ovviamente impostando la profondità di campo più bokeh che ci fosse, e sono molto soddisfatto del risultato. Guardate per esempio questa sequenza di foto scattate con ogni focale sulla casa di City Life. Come riesco a zoomare sempre di più, sempre otticamente, senza dover ricorrere allo zoom digitale. E specifichiamo che sì, l'iPhone 15 Pro Max ha lo zoom ottico 5x, ma per esempio l'iPhone 15 Pro non max, arriverebbe soltanto al 3x. Il Realme vanta questo zoom qui di tipo ottico, 140 mm 6x, l'S24 Ultra che vi offre uno zoom ottico 10x, che quindi in questa gara vince soprattutto, seguito poco dietro dal Realme, in ultimo posto seguito dall'iPhone. Poi ovviamente da qui in poi diventa zoom digitale, quindi un crop e una successiva rielaborazione praticamente fatta dal software, dove l'iPhone in ogni caso si ferma al 25x, questa foto è un 20x, e quindi poi per andare nel dettaglio più estremo ho dovuto usare soltanto il Galaxy S24 Ultra e il Realme 12 Pro, con questo ingrandimento più vicino di tutti, 115x2752 mm. Tutti gli smartphone, nessuno escluso, questa è una legge universale. Quando cominciano a utilizzare gli zoom digitali, altro non fanno che scattare una foto con una lente ottica, più vicina allo zoom richiesto, e successivamente iniziano a post-elaborare l'immagine in tempo reale, in modo un po' da creare i dettagli, mediante, chiamatela algoritmo, machine learning, un po' diciamo ridurre la nitidezza e il contrasto, per far notare di meno la sgranatura, chiamata tecnicamente rumore visivo. Ecco, devo dire che in questo Realme, ha scelto appunto la tecnica di nello zoom digitale diminuire la nitidezza della foto, diciamo appiattire un po' tutti i dettagli, mentre S24 soprattutto decide di enfatizzarli. E la differenza si nota, qui è una questione di gusto, io trovo che sia sempre una buona cosa mantenere i dettagli, ovviamente a meno che in certe situazioni questi dettagli finiscano con l'essere troppo sgranati. Faccio notare innanzitutto che oltre questo l'S24 Ultra si spinge fino a 100x, invece Realme 12 Pro Plus fino a 120x, che lasciatemelo dire è molto utile se dovete tipo spiare qualcuno. Ma parliamo adesso di foto macro, che è un tipo di fotografia che a me sta veramente sul cuore. Allora, ci sono due tipi di foto macro, quelle con i teleobiettivi, che quindi comunque vanno a fotografare qualcosa che sta molto lontano rispetto a noi, oppure le macro tradizionali, che consistono semplicemente nel mettere a fuoco un oggetto molto vicino alla lente. Ecco, quest'ultimo tipo di macro è una funzione esclusiva dei due smartphone più costosi. Soltanto iPhone e Galaxy S24 Ultra riescono a mettere a fuoco un oggetto ad una distanza veramente ravvicinata dalla lente. E in questo modo esce questo tipo di foto macro, quindi foto quasi da microscopio amatoriale, che possono effettivamente rivelare la consistenza di oggetti e tessuti, che ad occhio nudo non vediamo, facciamo molta fatica a vedere, capite di cosa sto parlando. Questo tipo di foto, come vedete, Realme non le può fare, o meglio, le può fare, ma la resa non è identica. Detto questo, Realme può fare un altro tipo di macro, che è questa qui. Ragazzi, per farvi capire, questo fiore nel mio prato era grosso così. Queste sono un tutt'altro tipo di foto macro, le state vedendo fatte sia dall'S24 Ultra, sia dal Realme, ovviamente non nella stessa posizione, perché era pressoché impossibile. E per esempio, guardate questa foto del fiore, fatta dal Realme, mi piace veramente tanto. E guardate il livello di dettaglio, nonostante, stiamo parlando in questo primo caso, di uno zoom 50x, e addirittura poi mi sono spinto fino al 96x. Ora, una tematica che non abbiamo ancora trattato, ma tutti questi tre smartphone sono in grado di scattare RAW. Sull'iPhone si fa andando in impostazioni, fotocamera, formati, formato PRO di default, e si può scegliere tra HIF, PRO RAW o PRO RAW MAX. Sull'S24 Ultra si apre la fotocamera, si va su altro, e si preme su Expert RAW, che è un'applicazione a parte, mentre nel Realme si va sempre su altro, PRO, e da qui si cambia il formato da JPEG a RAW. Tutti questi tre smartphone scattano nell'estensione DNG, che si è affermato ormai come formato RAW per smartphone. Per chi non sapesse cosa significhi scattare in RAW, significa non comprimere il file di uscita, non cancellare nessuna informazione dello scatto. In una parola, se le foto JPEG sono fatte per non essere più ritoccate in nessun parametro, le foto RAW, come si intuisce dal nome, grezze, sono fatte apposta per poi essere post-prodotte in un software come Adobe Lightroom. In tutti i loro aspetti, color correction, color grading, saturazione, esposizione, cambiamento della tonalità colore, insomma potremo applicarci il nostro filtro personalizzato partendo dal grezzo. Queste che state vedendo sono ad esempio delle foto RAW che ho fatto per prova. Purtroppo soltanto Samsung e iPhone possono scattare RAW con i loro teleobiettivi, con le loro lenti zoom, mentre Realme potrà scattare RAW soltanto con la fotocamera principale. E questi sono i risultati. La modalità PRO, che non per forza significa scattare in RAW, semplicemente ti dà la padronanza di tutti i parametri della fotocamera, che quindi diventano regolabili a mano, ISO, otturazione, bilanciamento del bianco e apertura, è pressoché identica tra Realme e Galaxy, visto che si richiama allo stesso modo e ha praticamente la stessa interfaccia. Mentre il suo iPhone non c'è una vera e propria modalità PRO. Si può semplicemente attivare il RAW PRO MAX, che però sono le foto in RAW, è un'altra cosa. Anche se comunque non tratterò nel dettaglio questa funzione, perché è riservata veramente a fotografi esperti. E l'altra limitazione di Realme, quando scatta in RAW, è che si limita a delle foto a 12 megapixel, che infatti hanno un peso di circa 20 megabyte, il file DNG. Mentre l'iPhone riesce a spingersi fino ai 48 megapixel, e il Galaxy fino ai 50 megapixel. Infatti i file di questi ultimi arrivano a pesare anche 100 megabyte a foto. Comunque vedete che i megapixel non sono tutto a conti fatti, soprattutto sui sensori degli smartphone in generale, questo qualsiasi smartphone che ha un sensore piccolo, non è un full frame. Come già detto, io non sono un fotografo professionista, non sono degno di scattare in RAW. Se questo argomento vi interessa, riproporremo questa sfida e daremo queste bestie in mano a un fotografo professionista. Tra l'altro non vi avevo ancora fatto vedere delle foto in notturna, queste sono utili per capire come si comportano gli smartphone quando sono stressati, tra virgolette. E abbiamo prima quella del Galaxy S24 Ultra, successivamente lo scatto dell'iPhone 15 Pro Max, e infine vi ho messo quello del Realme 12 Pro Plus 5G. Considerate che a quest'ora il sole era completamente tramontato, era sera, e vedete che le tre foto, tra l'altro RAW, hanno tre profili colore molto molto diversi. Questo è normale quando la luminosità scarseggia, ogni smartphone cerca di fare il possibile per salvare una situazione di per sé disperata. Noto che S24 Ultra ha veramente sovraesposto in modo esagerato la foto, ma nulla appunto che sia stato fatto in RAW non possa essere corretto in post-produzione, mentre iPhone e Realme colori decisamente molto più fedeli alla realtà. Quindi, per concludere questa manfrina, cosa abbiamo imparato dal confronto fotografico in vita reale? Ovviamente spendere il doppio, il triplo dei soldi acquista di per sé delle funzioni che il Realme 12 Pro non possiede, e questo mi sembra ovvio. Sto parlando per esempio di questa tipologia di foto macro, dei video 4K a 60, 8K a 30 del Galaxy, o anche slow motion, non c'è per esempio il 1080 a 240 frame al secondo, e soltanto a 720, oppure degli scatti RAW utilizzando le lenti zoom. Tutte funzioni nobili, appunto come le chiamavo all'inizio del video. Ma questo Realme presenta delle altre funzioni da top gamma. Non dimentichiamoci uno zoom in sensor 6x, che non si vede di solito in questo settore. Comunque la presenza anche di uno zoom 120x, che ha cacciato foto come queste. Le foto RAW in modalità Pro, qui soltanto l'iPhone ha una caratteristica ancora aggiuntiva rispetto agli altri due, ovvero addirittura la possibilità di girare dei video RAW, che non si chiamano RAW, è il codec ProRes, con possibilità di scegliersi il profilo colore, se HDR, SDR o Log. I video Log 4K sono una bomba, è vero, ma pesano anche uno sfracelo. Tant'è che l'iPhone li regista soltanto su degli SSD esterni, attaccati via USB-C, quindi è un discorso per videomaker. Se si sta parlando esclusivamente della lotta fra iPhone e Galaxy, qui possiamo semplicemente differenziarli fra chi fa le foto più vicine alla realtà e chi invece le fa un po' più esuberanti, pur con due qualità mostruose. Io ho trovato che gli scatti dell'iPhone siano sempre stati un po' coi colori più fedeli a quelli reali, invece il Galaxy ci abbia sempre trascinato e aggiunto un po' più di fantasia, colori più astratti e stupefacenti rispetto a quelli di iPhone, ma più lontani dalla realtà. E qui ovviamente dipende da quale vi piace di più, da un punto di vista tecnico sono equiparabili, con forse ogni tanto sul dettaglio un leggero scarto che vede l'S24 Ultra come vincitore. Poi non vi capiterà tutti i giorni di scattare delle super macro, di registrare video 4K, 60 o 8K, se così fosse Realme 12 Pro non fa per voi. Se in generale siete dei videomaker, dovete girare dei video professionali o iperprofessionali, andate di iPhone, andate dei suoi videocinematici, Log 4K, 60 e non sbaglierete. In tutti gli altri contesti però, finché si tratta di scattare foto video in ambienti normali o anche medi avanzati, abbiamo appena visto come un comparto fotocamere da 500 euro possa essere tranquillamente equiparato a uno da migliaia e migliaia di euro. Insomma, indubbiamente per la sua fascia di prezzo si tratta di un camera phone completo. Questo è a tutti gli effetti un medio gamma che grida top gamma da tutti i pori. Soltanto i due titani del settore potevano dargli filo da torcere, ma ritengo che per la metà e la metà del prezzo questa sia la migliore scelta che possiate fare. Tra l'altro una veloce menzione sul design del comparto fotocamere del Realme che è realizzato in collaborazione tra lo studio grafico di Realme e Olivier Saveau, che non so se lo sapete ma è un famoso designer svizzero di orologi. Infatti il tutto ricorda un po' il quadrante di un orologio se ci fate caso, con la corona tutta ai bordi. Detto questo fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete seguito la conferenza di rilascio di questo smartphone e in caso se lo acquisterete. Io ragazzi spero che questo confronto vi sia stato utile per capire quale camera phone acquistare. Se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su, cliccate qui al centro per iscrivervi al mio canale e attivate la campanellina o qui ai lati per guardare altri due video. Io vi mando un abbraccio e ci rivediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.